Nonostante si trovasse ai domiciliari, era uscito di notte per compiere un furto. I carabinieri della stazione di Verbagna hanno arrestato un 36enne italiano, residente in città, ritenuto responsabile di un furto ai danni del ristorante e pizzeria al porto Palatucci di Pallanza a fine giugno. Il 36enne, che si trovava sottoposto al regime cautelare per reati contro il patrimonio, sarebbe entrato di notte nel locale dopo aver forzato la porta e avrebbe portato via i soldi del fondo cassa, un magro bottino di poche decine di euro. A tradirlo le telecamere di videosorveglianza della zona, osservate con attenzione dai militari. Nel corso delle indagini è però emerso che il 36enne non era evaso dagli arresti domiciliari solo in quell'occasione, ma sarebbe uscito di casa senza permesso diverse volte tra giugno e luglio. È stato quindi accompagnato in carcere e dovrà rispondere di furto ed evasione.